Ciao a tutti, ciao a chi segue il mio canale, ciao a chi è capitato qua per caso Benvenuti e vi avviso subito che quello che vi regalo oggi è forse il video, anzi è sicuramente il video più interessante fra quelli che ho caricato fino ad ora perché tratto un argomento a priori rispetto appunto alle cose di cui fino ad ora ho parlato ho caricato video su come praticare lo yodel, le flautofonie, utilizzare le false corde, il canto armonico eccetera 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 ma alla base di tutto questo c'è comunque una comprensione di come funziona il nostro strumento voce quindi avrete sentito parlare di registri vocali, avrete sentito parlare sicuramente di zone di risonanza forse avrete sentito parlare anche di zone di consonanza ecco questo video tratta brevemente e in un modo molto pratico diciamo da cantante questi aspetti registri della voce, i principali registri della voce, zone di risonanza, zone di consonanza e come questi aspetti si compenetrano e concorrono in un utilizzo corretto diciamo della nostra voce sigla e poi facciamo due chiacchiere, vi assicuro le più importanti che troverete ad oggi su questo canale allora che cosa sono i registri della voce? diciamo che la voce è uno strumento che non ha lo stesso funzionamento meccanico a seconda lungo tutta la sua estensione prima cosa e poi non ha lo stesso funzionamento anche a seconda dell'effetto del suono che andiamo a utilizzare i registri della voce sono svariati, vocal fry, false corde, voce di petto, chest voice, head voice, falsetto e registro di fischio ma i due registri della voce che noi interessano principalmente sono appunto chest voice, la nostra voce di petto la voce che utilizziamo quando parliamo per capirci è la head voice, il falsetto, voce di testa intesa così però il falsetto e la voce di petto abbiamo già visto nel video dello yodel che sono due appunto registri diversi due registri diversi che portano a due suoni molto diversi quindi se io canto in voce di petto pura, mano a mano che mi muovo verso note sempre più acute a un certo punto succederà che la voce si spezza e passo al falsetto cioè ad un suono sentirò proprio che c'è qualcosa che scatta e passo ad un suono molto diverso da quello della voce di petto sono due suoni molto diversi, il cambio si sente molto le zone di risonanza sono quelle zone all'interno delle quali, zone cave all'interno delle quali la nostra voce appunto risuona, si arricchisce ad armonici e diventa sempre più simile a quella che noi sentiamo diciamo come risultato finale le zone di risonanza sono tre principali diciamo anche qua esistono studi di cantanti su mille variazioni possibili mille specificazioni possibili di quell'esatto punto, di quell'esatta zona tutta roba interessantissima, assolutamente però le zone di risonanza sono tre le principali gola, bocca e le zone cave che abbiamo sopra al palato duro qua sopra abbiamo delle zone cave e anche quelle sono zone di risonanza risonanza, quindi il suono risuona all'interno di questi spazi che si trovano nel nostro volto compreso il collo, la parte finale del collo e il suono risuona all'interno di questi spazi abbiamo poi le zone di consonanza cioè le zone che vibrano, le parti che vibrano con la nostra voce non all'interno delle quali la nostra voce risuona che sono anche qua tre ma le due principali che ci interessano sono petto e testa poi abbiamo anche la maschera considerata zona di risonanza la maschera è questa zona che possiamo sentire vibrare in modo particolare se proviamo per esempio a vocalizzare o anche solo a tenere una nota lunga a bocca chiusa io sento vibrare questa zona però per il discorso che facciamo oggi a noi interessano la testa e il petto queste due zone di risonanza che sono lì un pochino come poli diciamo allora io posso utilizzare uno di questi due registri ma posso per entrambi i registri utilizzare le due zone di consonanza principali testa e petto quindi io posso utilizzare la voce di petto chest voice con consonanza di petto oppure voce di petto con consonanza di testa cosa significa? se canto con voce di petto in consonanza di petto io canterò utilizzando appunto la mia voce di petto mantenendo la consonanza di petto quindi sarò ben radicato nel registro di petto però questo tipo di voce di petto con consonanza di petto mi porta ad avere un'estensione di un'ottava o poco più passata questa estensione io passerò al falsetto ok? diciamo che accentuo le differenze con l'altro registro principale con quello di testa oppure posso utilizzare la mia voce di petto con consonanza di testa quindi anche se mi trovo a muovermi a parlare a cantare nella voce di petto io faccio sì che il centro del mio suono sia abbia appunto sia quello della consonanza sia la testa la zona di consonanza della testa quindi il suono rispetto alla voce di petto sarà un pochino più squillante un pelo più leggero rispetto alla voce di petto in consonanza di petto consonanza di petto consonanza di testa cioè io faccio sì di sentire la mia voce di petto fino alla testa questo cosa porta? beh, porta che all'estensione della mia chest voice passa da un ottavo poco più a due ottave due ottave e mezzo cioè io riesco a cantare in questa modalità tutta la mia estensione avendo ciò che preoccupa molto in cantante quindi una sorta di riuscendo a utilizzare ad avere una sorta di continuità timbrica perché è quello che ci interessa almeno che non sia l'effetto artistico che vogliamo sarebbe interessante riuscire almeno ad avere un suono con una certa continuità appunto timbrica lungo tutta la nostra estensione stessa cosa ovviamente posso fare con la head voice posso utilizzarla sia in consonanza di testa falsetto pure semplice appunto ben posizionato in testa oppure head voice con consonanza di petto è sempre falsetto ma io porto diciamo che il centro della mia voce anche se sto usando la head voice diventa il mio petto queste modalità quindi petto con consonanza di testa o testa con consonanza di petto rappresentano due tipi di voce miste noi con voce miste intendiamo una modalità che non è un registro vocale ma una modalità che permette ai meccanismi dei due registri di in un certo senso lavorare insieme questa modalità di cantare cioè la voce miste è super utilizzata nel rock né il musical né in un sacco di generi dove comunque è richiesto di passare di qua e di là dal punto di passaggio di avere una continuità timbrica e di riuscire appunto a cantare bene o male lungo tutto il brano con una certa con la stessa voce o almeno questo deve essere l'effetto quindi spero di essere stato nella brevità di questo video che tratta in realtà argomenti immensi esplicativo due registri della voce principali chest voice e head voice per ognuno dei due registri io posso utilizzare le due zone principali di consonanza testa e petto unendo così tutta la nostra estensione garantendo una certa continuità timbrica in chiusa di questo video vi ricordo che questi video non hanno nessuna pretesa di prendere il posto di un insegnante gli argomenti che abbiamo trattato adesso richiedono lavori di anni questa è la mia esperienza con allievi eccetera gli allievi che vedranno questo video non potranno far altro che ammettere che è così però sono video pensati per dare spunti interessanti per essere utili a tanti livelli sotto vari punti di vista quindi spero di avervi chiarito qualche aspetto o di avervi fatto annusare un pochino la complessità o comunque avervi dato una sorta di schema generale all'interno del quale muoversi un filo d'Arianna che è possibile seguire lungo tutto quello che possiamo fare con la nostra voce vi ringrazio mettete like se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e ci vediamo presto ciao